Come sono andate le campagne abbonamenti delle squadre di serie A? Andiamo a vedere i dati che in alcuni casi sono imprecisi, in altri sono parziali per campagne abbonamenti non ancora terminate. La fonte è varia, ci sono in alcuni casi fonti giornalistiche, in altri casi fonti dirette delle società di calcio, però grosso modo senza grandi errori, con un margine di errore piuttosto piccolo. Andiamo appunto a vedere quanti abbonati hanno fatto le squadre di serie A 19 perché il Torino non ha comunicato i dati per la stagione 23-24, ma andiamo anche ad analizzare non tanto e non solo la capienza totale del relativo impianto, ma soprattutto l'obiettivo di abbonati che la società voleva raggiungere o in alcuni casi la quota massima raggiungibile vista la disponibilità di posti. E quindi abbiamo che la squadra con più abbonati risulta essere il Milan con 41.500 su 75.923 che è la capienza dello stadio Meazza, uguale naturalmente per l'Inter. L'obiettivo era esattamente quello, quindi si parla di sold out 100%. Stessa cosa per quanto riguarda l'Inter, anche se si è fermata a 40.000 sold out, 40.000 anche per la Roma, anche qui sold out su un impianto, lo stadio olimpico di Roma, stessa capienza anche per la Lazio, di 73.261 posti, ma l'obiettivo è stato raggiunto. L'obiettivo, più che la capienza massima di abbonati, è stato raggiunto con sold out anche da parte della Lazio, pur trattandosi di 10.000 abbonati in meno. E sia per la Roma che per la Lazio, ma anche per Milan e Inter, parliamo non solo di sold out, in alcuni casi di un aumento degli abbonati rispetto alle passate stagioni, ma anche di una grande velocità nella finalizzazione della campagna abbonamenti, cioè nel raggiungimento dell'obiettivo. Il Genoa ha addirittura superato l'obiettivo che si era posto di 25.000 abbonati, arrivando a 27.777 su una capienza di 34.901 posti dell'impianto. E siamo quindi oltre il 100%, ma diciamo 100% sold out. La prima società in ordine di maggior numero di abbonati a non aver raggiunto il sold out, ovvero l'obiettivo prefissato, è il Napoli, che si ferma a 22.237 su 54.726 posti dello Stadio Maradona, ma l'obiettivo era 25.000 abbonati, quindi 89% del totale possibile di abbonati. In Lecce, altra squadra da sold out, l'obiettivo era sostanzialmente 20.000, sono arrivati a oltre 21.000 in un impianto, tra l'altro, di poco più di 31.000 posti. La Fiorentina va in calo rispetto alla passata stagione, 4.000 abbonati in meno circa. L'obiettivo potenziale, diciamo che era sui 25.000, forse un pochino meno, ma diciamo che siamo tra il 70% e l'80% di efficacia di questa campagna abbonamenti, che si ferma a poco più di 17.200 su un impianto che naturalmente è quello di Firenze, da 43.147 posti. Poi c'è il capitolo Juventus, che ha comunicato solo i 16.000 rinnovi rispetto alla passata stagione, dove gli abbonati erano 20.000, quindi 4.000 in meno, ma gli abbonati 2019 erano addirittura quasi 28.000 e non era il 100%, quindi oltre ad aver perso tutti questi abbonati tra i vari rinnovi, non è stato ancora comunicato, nonostante la campagna abbonamenti sia stata chiusa la scorsa settimana, 6 settembre, il dato finale. Ma, poiché si parla anche di pacchetti da tre gare, quindi si invitano i tifosi ad acquistare i singoli biglietti con degli sconti se comprano per più partite, evidentemente non si è raggiunto un grande numero e il fatto stesso che non sia stata comunicata la cifra finale lascia intendere senza malizia che il numero finale potrebbe essere stato piuttosto basso, rispetto a questo 16.000, che però prendiamo come unico dato ufficiale disponibile e siamo a circa al 53%, quindi il dato peggiore di tutta la serie A, di posti occupati su quelli disponibili, perché la capienza è 41.507, ma appunto con 28.000 abbonati 3-4 stagioni fa, evidentemente l'obiettivo 30.000 non sarebbe stato impossibile e invece ci si è fermati appunto a poco più della metà. Proseguendo c'è il Bologna, anzi una serie di squadre sold out, Bologna 15.000 su 15.000 auspicati, Cagliari addirittura erano auspicati 13.000, è stata superata questa quota e hanno un impianto da soli 16.000, quindi quasi l'intero impianto della Sardegna Arena sarà pieno di abbonati ad ogni partita. L'Udinese in crescita rispetto alle passate stagioni, obiettivo circa 13.000 superato su una capienza di quasi il doppio, Verona anche qui obiettivo sostanzialmente raggiunto, il Bentegodi è molto grande ma si sa che il pubblico veronese non è mai uno stadio affollatissimo, l'Atalanta ha delle restrizioni legate ai lavori in corso, quindi la capienza massima per gli abbonati era 11.080 ed è stata raggiunta la quota, e il Frosinone ha battuto ogni record con 11.000 abbonati circa, su una capienza anche in questo caso di poco più alta, quindi solo 16.000 posti. La Salernitana non è riuscita ad arrivare all'obiettivo fissato dal presidente di Ervolino di 12.000 abbonati fermandosi a poco più di 10.500 ma siamo comunque all'88%, sold out sostanzialmente per Monza ed Empoli stando alle cifre circolate e agli obiettivi dichiarati, quasi sold out per il Sassuolo che in passato è riuscito a fare 7.000, ma sappiamo che ci sono pochi tifosi del Sassuolo in Italia e in zona, ecco perché c'è un limite fisiologico nonostante l'impianto consentirebbe molto di più e siamo al 90% e per chiudere appunto il Torino non avendo comunicato i dati non ci consente di fare valutazioni. Quindi le considerazioni da fare sono sostanzialmente due, una di carattere generale, un aumento un po' per tutte quante le società degli abbonati rispetto alle passate stagioni e non parliamo solo di neopromosse, parliamo anche di squadre, magari di media classifica, che l'anno scorso hanno particolarmente convinto o che ci si aspetta che possano fare un gioco particolarmente avvincente e quindi attrattivo. Poi ci sono forse i risultati ottimi delle big nella passata stagione e l'ottimo mercato, soprattutto se parliamo di Milan, Inter, Lazio e Roma, soprattutto la Lazio spinta dai risultati e tra l'altro è record nell'era lotito, 30.000 abbonati non c'erano mai stati e chissà quanto merito può aver avuto Sarri con la squadra per tutto questo. In leggera flessione praticamente solo Fiorentina e Napoli tra le big o comunque le squadre più rilevanti con il bacino d'utenza più ampio e poi c'è l'altra considerazione da fare a margine di questa crescita generalizzata che è, come già dicevo, quella sulla Juventus, che non ha comunicato il dato finale al momento in cui registro questo video, forse per imbarazzo, forse per timore, forse perché si tratta di un dato poco incoraggiante, di un dato a tratti negativo, fatto sta che già sui soli rinnovi si erano persi 4.000 abbonati in un anno e qualcosa in più rispetto agli abbonati pre-pandemia, sostanzialmente che erano 27.700, quasi 28.000, per cui è difficile immaginare, visto anche il prolungarsi della campagna abbonamenti fino al più tardi possibile a campionato iniziato e addirittura durante la sosta e visto la mancata comunicazione di dati e i pacchetti speciali di cui vi parlavo, dicevo, difficile, molto difficile che si sia raggiunta una quota particolarmente consistente, particolarmente importante e quindi da poter far esultare la società bianconera. Evidentemente anche questa campagna abbonamenti, e sarebbe la seconda dopo quella dell'anno scorso, per la Juve è stata un flop. Per quale motivo? Disaffezioni a causa delle penalizzazioni? Ma quello dovrebbe in realtà portare ad una maggiore fidelizzazione, ad un maggior calore del pubblico nel sostegno alla squadra. Oppure è una questione di come si sta in campo, di come si gioca, e qui potrebbe centrare anche qualcosa l'allenatore. O magari la campagna acquistica è stata praticamente zero, ma la rosa certamente non è una rosa scarsa, è comunque forte. O il fatto che non si va in Champions League, ma alla fine qui si tratta di abbonamenti per la Serie A. Quindi anzi, dovrebbe essere stato magari un incentivo, visto che le uniche volte che si può guardare la Juve allo stadio è in campionato. Quindi incentivo, non dovendo spendere per la Champions, a spendere qualcosa in più per gli abbonamenti, garantendosi il posto per poter andare appunto allo stadio. Quali sono invece le motivazioni quindi di questo ennesimo flop? Magari la società bianconera comunicherà i dati definitivi e potremo fare ulteriori considerazioni. Per il momento questi sono i dati e questi sono i ragionamenti.